Cari telespettatori, siamo in diretta con voi e parliamo di vecchie e nuove povertà di ricerche condotte sul settore. Abbiamo già affrontato i temi con la Fondazione Zancan che peraltro compie 50 anni. 50 anni di presenza sul territorio per stimolare, per essere da pungolo in virtù di ricerche fatte, per affrontare, far affrontare delle sfide importantissime. L'abbiamo già detto anche la scorsa settimana, il terzo settore, il welfare, sta soffrendo come purtroppo soffrono tanti ambiti, tanti settori. Ma mentre prima quando magari c'era un maggior benessere, una maggiore disponibilità, ne arrivava anche di disponibilità e di possibilità a questi ambiti che affrontano le grandi difficoltà delle persone, del sociale, adesso invece c'è una forte stagnazione. Ci sono quindi le vecchie povertà che si incancreniscono, ci sono quelle nuove persone, famiglie, soprattutto che hanno bimbi minori, dove si è creata una disoccupazione, dove si è creato un disagio sociale particolare, che stanno vivendo momenti molto molto difficili. La Fondazione Zancan, che si occupa di ricerca, quindi non di aiuto contingente, ma di ricercare dove sono, nelle pieghe del sociale, dove ci sono queste piaghe, e studiare le modalità con cui poi altri possono intervenire, ha cercato di fare il punto della situazione. Presto ci sarà anche un convegno internazionale che si occuperà di minori e di famiglie, di fasce deboli, e cerchiamo noi insieme, i nostri ospiti, di capire meglio, di fare il punto della situazione in questo preciso momento. Lo facciamo con il Presidente della Fondazione Emanuela Zancan Onlus di Padova, che è Monsignor Giuseppe Benveniù Pasini, grazie di essere qui con noi Presidente, e con Giulia Barbero Vignola, che è ricercatrice della Fondazione Zancan. Ben ritornata con noi. Allora, recessione a tutti i campi del welfare però. Questo è un tema che a voi ha pungolato abbastanza, però prima di affrontarlo, io vorrei che lei decesse due parole sul ruolo che ha la Fondazione, visto che compie 50 anni, insomma, capire come si è evoluta, che cosa sta facendo. Sì, direi che è nata per un incidente, no? A Padova esisteva una scuola di servizio sociale per assistenti, formazione di assistenti sociali, che era guidata da Monsignor Giovanni, diretta da Monsignor Giovanni Nervo, che è anche il fondatore della Fondazione Zancan. Lui è stato direttore dal 51 al 63 e aveva come vice direttrice la dottoressa Emanuela Zancan, era insegnante ma era anche vice direttrice. E lei ha avuto una malattia ed è morta a un certo punto, dopo alcuni anni, e avendo la famiglia in buone condizioni, non aveva bisogno di lasciare questo po' di lascito alla famiglia, e l'ha ceduta a Monsignor Nervo perché facesse un'opera sociale. Lui poteva scegliere fra aprire un centro di accoglienza per minori, per anziani, per disabili, eccetera, e ha puntato invece sul problema formazione e cultura. Dice qui bisogna, per superare i problemi che anche allora esistevano sul tappeto della povertà, dell'emarginazione, bisogna costruire una cultura nuova in cui le persone si sentono tutte corresponsabili di questo e quindi affrontare i temi prima che scoppino. E allora ha creato la Fondazione Zancan. Che era il 64 sostanzialmente, gli anni 60 insomma. Sì, il 64 esattamente. Quindi proprio collocarci come periodo storico. Ha avuto poi il riconoscimento più tardi, nell'anno, nell'83, il riconoscimento di Fondazione come ente morale di alta specializzazione nei problemi delle politiche sociali ed è incominciato sostanzialmente facendo due grandi filoni di interventi. Un intervento di formazione per gli operatori dei servizi, assistenti sociali, assistenti sanitari e proprietari di servizi sociali e poi invece seminari di studio per cogliere i problemi che immersevano. Ecco, questo secondo aspetto, a me sembra, è anche l'aspetto più caratteristico perché il problema che si sono posti, senza aspettare che i problemi scoppino, si chiama di intuire che cosa sta nascendo nella società e in modo da anticipare, prevenire lo scopio di questi problemi anziché dover intervenire in termini riparativi soltanto. Ecco, lei ha affrontato, far ripasso con la Fondazione, un periodo storico importante di grandi cambiamenti, di mutamenti, di cicli e ricicli e comunque un periodo di evoluzione. Siamo arrivati a un momento invece quasi di ritorno indietro, sotto tanti profili al di là di tutto. Che cosa ha riscontrato? Che poi con le ricerche si riesce anche a puntualizzare e a vedere delle cose che magari non emergono perché tanti la conoscenza ce l'hanno attraverso i media, la comunicazione, adesso anche il web. Invece dal di dentro, quindi con la realtà, lei che cosa ha visto in questi grandi cambiamenti? Non dico di 50 anni, però facciamo l'ultimo. Sì, sì, nel periodo, grosso modo. Anzitutto direi che il problema povertà per un periodo abbastanza lungo, penso tra dieci anni fa e i vent'anni precedenti, grosso modo il numero dei poveri si era stabilizzato su una certa cifra. Erano 7 milioni, poi sono diventati 8 milioni, eccetera. E la mentalità che andava a nostro giudizio scalfita era che il problema andava affrontato non soltanto in termini assistenziali, cioè fidandoci delle organizzazioni caritative o solidaristiche che potevano esserci, ma andava affrontato come problema sociale, cioè sostanzialmente non si poteva limitare ad aiutare i poveri lasciandoli poveri, ma bisognava impegnarsi a farli uscire dallo stato di povertà. Per farli uscire dallo stato di povertà le organizzazioni varie di assistenza non erano sufficienti e non era neanche la loro competenza, doveva intervenire lo stato, doveva intervenire con leggi particolari, legge sull'assistenza, pensi che la legge sull'assistenza è del 2000, quindi erano passati quasi 40 anni prima che... Non è stata tempestiva come intervento. Nel frattempo sono aumentati e sono aumentati anche il numero dei poveri. Si è cominciato a distinguere i poveri di una povertà relativa, cioè in relazione alla ricchezza media della gente. Se, per esempio, la media era che uno poteva disporre di 1000 euro al mese, era considerata povertà relativa a chi aveva meno di 500 euro, era considerato povero, relativamente povero. Poi la povertà assoluta, invece, chi mancava proprio di reddito, e quindi di... Questo numero dei poveri purtroppo è aumentato. Negli ultimi anni poi è tracimato, questi ultimi sette anni della crisi è tracimato, e accanto alla povertà, intesa nel senso di assenza di mezzi anche per vivere una vita dignitosa, sono nate anche nuove forme di povertà. E soltanto recentissimamente, con questo governo, si è cominciato a porsi il problema di una redistribuzione del benessere serio che avrebbe dovuto essere parte delle politiche sociali di sempre, perché il politico sceglie il bene comune e per il bene comune bisogna che le distanze tra i poveri e i ricchi non siano abbissate, perché diventano scandalose. Soltanto adesso si è incominciato ad affrontare queste cose. Ad affrontare però sono state poste anche fatte delle proposte che per voi possono essere interessanti oppure no, concrete o solo promesse. Guardi, siamo nell'attualità in questo momento, con il governo attuale, una delle presi di pulizioni che ha assunto è stata di dare questi 80 euro al mese. Qualcuno ci ha riso dietro, diciamo fate un po' di elemosi, ma se io do 80 euro a chi dispone di 500 euro al mese, come sono milioni di persone che non superano i 500 euro e ne do 80 in più, gli do possibilità forse di passare l'ultima settimana in cui non ha nulla con cui pagare da vivere e quindi questo passaggio è stato un cenno in questo senso. Adesso si prevede anche di allargarlo, ma soprattutto quello che ci è sembrato importante è che l'affrontare questo tema della povertà e quindi anche della redistribuzione equa delle ricchezze e del benessere deve essere un problema di tutti. E qui ci innesta uno degli aspetti che sono emersi proprio dalla Fondazione Zancà come proposta, quella dell'uelfare generativo, così detto, qualche altra volta se ne è parlato, comunque sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno per esempio entra un operaio in cassa integrazione, c'è la cassa integrazione ordinaria, poi quella straordinaria, lui praticamente vive con quello che ha messo da parte dal suo stipendio o dalle rendite della ditta presso cui lavorava e quindi praticamente paga del suo. Quello succede? Che queste rendite però in questi ultimi anni si sono totalmente esaurite e allora o uno muore di fame oppure deve intervenire lo Stato e lo Stato interviene con la fiscalità, cioè con quello che raccoglie dal fisco, con quello che raccoglie dalle tasse delle persone. Ecco, e allora il problema che anche noi abbiamo posto è che mentre prima nella prima parte della cassa integrazione ordinaria pagavi del tuo, non dovevi rendere conto a nessuno perché era una piccola parte del tuo stipendio sottratto per affrontare questo problema. Qui invece paghiamo tutti. Chiunque paga una dipendente nella sua busta paga si vede detratto un tot per, eccetera. E' da lì che... Allora, tu cosa restituisci alla società? Perché ricevi da tutti un compenso cassa integrazione si sa non è una grande somma però ti consente di sopravvivere quanto meno. Cosa restituisci? E quindi ecco la proposta del welfare generativo devi offrire un servizio sociale, un servizio alla gente perché in questo modo per un verso restituisci, per un altro verso sei anche a posto con la coscienza perché hai fatto tutto. No, no, ma soprattutto ti senti utile che è un altro aspetto psicologico. Ecco, infatti volevo affrontare con lei e dopo entriamo anche nel merito specifico dei bambini, delle famiglie. Le povertà sono anche povertà di valori che si vengono a creare, povertà nel sentirsi povero, povero socialmente marginato, relegato a degli spazi che non sono quelli che uno si sente invece di dover appartenere, di diritti negati, di doveri che incombono e di situazioni che vanno veramente ad opprimere la persona. Arriviamo agli estremi di violenze in famiglia che vengono perpetrate nell'ambito della famiglia perché scoppiano delle tensioni con una facilità estrema, di persone che vanno a provocare violenza a se stessi, a togliersi la vita proprio perché esasperate da situazioni nelle quali non riescono più a ritrovarsi. Questi fanno parte delle povertà di cui poco a volte si va a parlare però sono una piaga, un'emarginazione che è dilagante e coinvolge anche i giovani. I bambini ne sono coinvolti in modo passivo, i giovani ne diventano parte integrante e non hanno voglia di essere neanche attivi in questo contesto. Questo qui è veramente direi che è l'aspetto nuovo e emergente in questi ultimi anni proprio. Una cosa che mi ha colpito è che nelle ultime ricerche fatte dalla Caritas italiana quindi con una grossa rete di presenza in tutto il territorio nazionale una delle povertà che li hanno colpiti di più è quella degli uomini separati. E' proprio su lei sta toccando un altro tema che è tornato più di più. gli uomini separati cioè praticamente si rompe il matrimonio non ha funzionato è privilegiata la mamma perché si ha dei bambini se è alla casa la casa va alla mamma con i bambini lui deve non soltanto pensare a vivere lui stesso ma deve anche dare un contributo perché possano vivere loro. Succede che qui nascono proprio situazioni di impoverimento impoverimento nel senso grave anche perché uno non ha casa deve cercare una casa in affitto ma con lo stipendio che prende non è facile pagare un affitto oggi ma addirittura non ha neanche sufficiente molte volte per mangiare per cui nella ricerca della Caritas è emerso che ci sono molti di questi uomini che quindi fino a ieri fino a che si rompesse poi la loro situazione erano benestanti dei signori i signori sono persone rispettabili come tutti gli altri e devono umiliarsi ad andare alla mensa della Caritas a prendere un boccone accanto ai barboni accanto agli immigrati eccetera questa è una forma di nuove povertà che andrebbe affrontata anche in maniera radicale e sono aumentati vanno aumentando tanto che mentre fino a dieci anni fa la grande maggioranza di quelli che accedevano a questi centri di assistenza Caritas erano immigrati c'erano anche gli italiani ma in un numero molto minore il numero degli italiani sta crescendo in questi ultimi tempi e tra questi ecco l'altro aspetto cui lei ha accennato che veramente è drammatico il mio giudizio è quello dei giovani perché normalmente non ci si pone il problema come fanno a vivere questi giovani se non hanno lavoro cioè chi non ha un reddito ed è adulto con più di 18 anni è povero cioè oggettivamente ma non soltanto è povero nel senso che non ha i mezzi allora se ha la fortuna di avere una famiglia col papà che ha un lavoro e in qualche maniera continua a tenerlo in casa o col nonno che ha la pensione a rotonda in qualche maniera danno da mangiare anche lui fa salvo l'umiliazione di sentirsi mantenuto ma poi la povertà l'altro aspetto è che uno un giovane non può programmare nulla della sua vita non può programmare e questa è una responsabilità sociale che anche secondo me è in capo allo Stato in questo momento la mancanza di dare programmabilità all'esistenza della persona ed è gravissima perché una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe dare garanzie anche di qualsiasi lavoro insomma perché non hanno i lavori poi non devono essere migliori o peggiori insomma secondo di cui se piacciono e invece in questo modo non lo fa non fa non soltanto ma pensi un po' con il sistema nuovo di formazione del pacchetto pensioni che viene esclusivamente dei contributi che tu hai dato lavorando e oggi un giovane che lavora con un lavoro fisso è un fortunato la grande massa di giovani lavora a progetti quindi lavori per tre mesi quattro mesi un anno quando ti va bene e dopo si interrompe devi cercare rischiano di arrivare all'età della pensione in cui quello che riusciranno a prendere di pensione non supera gli 500 euro che è il livello di povertà quindi stiamo fabbricando i poveri del domani con un senso di irresponsabilità per non sapere sono difficoltà oggettive legate alla crisi sappiamo ma per non aver affrontato le situazioni in forma preventiva e preventiva oggi questi due aspetti del che un aspetto meno numericamente numeroso che è quello degli sposati divorziati eccetera che non hanno mezzi ma soprattutto questo dei giovani sono nuovi nel panorama italiano sì disoccupati c'erano sempre stati allora c'è una parte di giovani molti vedo anche qui dal Veneto dalla dalla Lombardia sono partiti sono andati all'estero ma sono anche quelli che in qualche maniera dispongono già di perché per andare all'estero bisogna cominciare a pagare il biglietto dell'aereo o del treno devi trovare una sistemazione qualcuno deve aiutarti per fare questo se non hai i mezzi quindi sono anche i fortunati va bene e però devono uscire ma la maggioranza non è in grado di affrontare questo rischio o non ha il coraggio e però si trova in questa situazione di dipendenza oggi e quindi anche di mortificazione della propria personalità e di oscurità per quanto riguarda il futuro e anche la loro pensione domani assolutamente allora riflettendo su questi aspetti che sono purtroppo drammaticamente reali andiamo a pochi secondi in pubblicità poi ritorniamo insieme con voi